Allora ecco, che cosa rappresenta questo restauro per l'opera? Allora, questo restauro per l'opera rappresenta un passo importante perché si trova collocato fra la Basilica, la Biblioteca Medici-Laurenziana e il Chiostro dei Canonici, per cui è proprio in mezzo al luogo, fra i luoghi più importanti, perché è la scala per andare poi nella Biblioteca di Michelangelo, è un'annunciazione molto molto carina che era purtroppo, essendo quasi all'esterno in pieno degrado e quindi aver potuto restituire un piccolo segno, ma anche grande e importante da un punto di vista religioso, per noi è importante questo. Quanto è durato il restauro e in che modo si è svolto? Allora, si è svolto, c'è stata un po' di complicazione da un punto di vista organizzativo e diciamo anche burocratico, perché il chiostro, cioè dove è collocato, è proprio nella scala per andare alla Biblioteca, per cui si è dovuto agire e lavorare nel pomeriggio a Biblioteca chiusa, oppure quando ce lo consentiva la chiusura della Biblioteca, quindi il tempo di giornate di lavoro sono 80, però alla fine si sono raddoppiate, proprio perché potendo lavorare solamente 4-5 ore, poi nel periodo in cui le giornate sono più corte, questo è stato più lungo del normale, però credo che l'opera sia stata restituita molto 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 bella e molto anche emozionante.